Cari amici, benvenuti in questo video dedicato a Dream Daddy, il magico gioco in cui Kirio, dopo essersi salvato dal club di letteratura, fa una figlia, resta vedovo e si rifugia in un bellissimo quartiere pieno di padri single e divorziati. E adesso sta giusto intrattenendo una relazione molto gentile e romante, amichevole, volevo dire amichevole, con Craig, il suo vecchio compagno del college, che adesso sta diventando molto più intimo per lui. Però non è successo niente in questi appuntamenti, un bacino sulla fronte è stata la cosa più spinta che abbiamo visto, ma l'appuntamento è andato molto bene, perciò continuiamo a uscire con Craig e vediamo come vanno le cose. Ah, ma mi è arrivato un messaggio da Craig. Ehi amico, dove chiederti un favore? Senti, Robert mi ha invitato a cena e lo so che è strano portare un'altra persona, ma sono anni che lo conosco, ma ancora non riesco a capirlo bene e sarebbe strano stare con lui da solo, quindi potresti venire con me per favore? Beh, a me piace mangiare, soprattutto se il cibo è gratis. Perciò non so perché stai sudando, però va bene, perché no, dai, vengo, vengo con te. Grazie mille! Eh, spero che sia sudore per il sollievo. Vabbè, dai, e andiamo a fare questa cena, ma che vi devo dire? Beh, dai, non suona troppo male, voglio dire, potrei approfittarne del cibo gratis. Ma perché Craig è così apprensivo per quanto riguarda Robert e quello con cui potevamo andare a letto la sera stessa in cui l'abbiamo conosciuto? Per caso sa qualcosa di Robert che io non so? È meglio che mi sbrighi a rispondere prima che il mio cervello da babbo vada in paranoia. Sì, sì, sto arrivando, sto arrivando. Grazie mille! Alla fine Craig e io decidiamo di incontrarci prima di andare a casa di Robert. Craig è in piedi davanti alla porta di casa mia con una bottiglia di vino bianco in mano. Kirio, caspita se sono contento di vederti. Anch'io? È elegante la parte tua portale del vino. No, non è vino, in realtà è sidro di mele con le bollicine. Robert ha tipo un miliardo di bottiglie di vino nella sua cantina, quindi non credo che gliene serva altro. Wow! O almeno penso che sia una cantina per il vino, non lo so cosa ci tiene là sotto, non voglio parlargliene. Beh, meno mai non ci sono io in quella cantina, non si sa mai. Comunque sia. Non lo so, Robert è così strano, di solito ci rido per queste cose, ma lui è veramente un mistero. Cominciamo a camminare verso casa di Robert. Per caso sa cucinare Robert? Ho qualche dubbio perché ho visto che non si sa nemmeno radere tanto bene la faccia e non si sa neanche stirare le camicie. Non lo so, ho la sensazione che cucinare venga dopo aver imparato queste due cose. Boh, non lo so, una volta gli ho visto prendere uno dog dal cassonetto. Voglio dire, era proprio in cima in cima, proprio soprattutto il resto, però insomma era sempre un cassonetto. Penso che conti come spazzatura. Beh, in sua difesa posso dire che anch'io ho considerato dipende del cibo che era in cima alla spazzatura qualche volta. Vabbè dai, l'abbiamo considerato tutti qualche volta nella vita, ma lui l'ha fatto? Sì, è vero. Forse è lui la persona illuminata fra di noi, forse siamo noi che ci stiamo trattenendo. Che cosa strana effettivamente. Che stanno argomento. Comunque sì, arriviamo a casa di Robert e suoniamo il campanello ma nessuno viene ad aprire. Hmm, deve essere rotto, non suona. Alla fine facciamo un po' di toc toc per vedere se ci apre. Ma Robert ha un cane? Non lo so, questo è strano. Sento che c'è Robert in casa. Un secondo? Questo è territorio inesplorato Kirio. E se ad abbaiare non fosse stato un cane? No, non dirle queste cose, non siamo neanche entrati ancora. Alla fine la porta si apre e Robert mi guarda con sorpresa. Kirio, non sapevo che ci saresti stato anche tu. Allora Craig non l'ha detto a Robert che sarei venuto con lui? Posso andarmene se... No, no, figurati, dai, entra. Entriamo nell'appartamento di Robert che è molto carino. È disordinato da morire però è molto carino. Sorprendentemente carino. Come foste a casa vostra ragazzi. Riesco ancora a sentire qualcuno che abbaia però eh. Non sapevo che avessi un cane Robert. Ah, quello è Betsy. Devo chiuderla in camera quando ci sono degli ospiti perché almeno così si può dare una calmata. E che cane è? È un pitbull. L'ho salvata da un giro di incontri clandestini e detesta gli sconosciuti. Se la facessi uscire finireste tutti e due al pronto soccorso molto probabilmente. Craig e Dio ci guardiamo. Ah, ok. Comunque sia la cena sarà pronta in pochi minuti. Spero che vi piaccia l'osso buco. Robert se ne va via. Probabilmente vuole andare in cucina. Craig viene lì e mi sussurra qualcosa. Ma l'aveva detta sul serio quella cosa della lotta clandestina dei cani o se la sarà inventata? Non so che risponderti. E poi cos'è un osso buco? Non lo so. Se l'ha inventata quella parola? No, non se l'ha inventata. Beh, finché non vediamo cos'è questo osso buco possiamo soltanto immaginare che se lo sia inventato. Sediamo in silenzio per alcuni secondi, mettendoci più comodi nel soggiorno. Secondo te stiamo per fare la fine dei personaggi di The Soul Enigmista? No, di solito in quelle situazioni ti addormenti e poi ti svegli mentre ti trovi in quella situazione. Noi siamo venuti qui volontariamente. Alla fine Robert ritorna con tre piatti di cibo fumante come un cameriere. Non ho una tavola da pranzo, non mi fido di loro. Perciò mangeremo qui. In che senso non si fida dei tavoli? E non ho neanche dei piatti veri e propri. Spero che questi vadano bene. Robert posa i piatti sopra il tavolino dal caffè. Non riesco ancora a capire che cosa sia. Mi sembra carne con tanta salsa e forse delle verdure. Potrebbe essere riso ma potrebbe essere anche pasta. Mi sa che c'è soltanto un modo per saperlo. Prendo il primo morso. Oh mamma mia! Mangio ancora, è veramente un ottimo sapore. La carne è veramente buona. Il risotto, sempre se è il risotto, è molto cremoso. Robert è veramente buonissimo. L'hai cucinato tu? No, l'ho preso in un cassonetto dietro il ristorante. O almeno penso che fosse un ristorante. Ti rendi conto che le persone buttano via delle cose del genere? Per un attimo mi viene da vomitare. Sto scherzando? Guardo Craig. Anche lui ha la bocca piena e finisce per fare un pollice in su a Robert. Sono contento che vi sia piaciuto. E dov'è che hai imparato a cucinare così bene? Beh, ho lavorato in un ristorante in Spagna per parecchio tempo. Ci sta prendendo un giro di nuovo? Decido di stare al gioco. Hai vissuto in Spagna? Sì, dopo che ho finito il college, anzi dopo che ho abbandonato il college e mi sono fatto un bel giro per tutta l'Europa. Ho dormito sui divani, ho dormito negli ostelli, dove capitava ero senza soldi. Ho lavorato in un paio di lavoretti strani così per mettere insieme due spiccioli. Una notte mi ritrovai a mangiare qualcosa in un ristorantino fuori da Madrid. Poi però sono andato a pagare e mi sono reso conto che di soldi non ne avevo più. L'avevo spesi tutti per sbronzarmi la sera prima. E alla fine il manager mi acchiappa e mi mette a lavorare con lui in cucina. Per farvela breve, alla fine gli sono piaciuto, perciò mi hanno offerto un lavoro fisso e ho detto, beh perché no, dai. E sono rimasto lì a vivere per un po', insieme a dei parenti da parte di madre. Nel giro di due anni sono passato da sguattero a su chef. Ho imparato tante cose. Craig e Dio ci stiamo aspettando che dica che era tutta una battuta. Chi avrà pagato il nostro Robert per tornare negli Stati Uniti? E in quale passaggio segreto di qualche bisca clandestina sarà entrato per tornare indietro? Ma non dice niente del genere. Comunque sia, mi piace ancora molto cucinare. Ormai non so più che cosa è reale e che cosa no, ma questo cibo è buono e non me ne frega nulla. È buonissimo. Sì, davvero? A essere sincero no, non mi aspettavo che tu fossi così bravo a cucinare. Soprattutto non una cosa servita su dei piatti di plastica. Ma la presentazione non la trovo importante. Se il cibo è buono deve parlare da sé. Sì, questo osso buco effettivamente parla e grida da solo, devo dire. E poi i piatti di plastica sono buoni come quelli normali, secondo me. Basta metterne due uno sull'altro. Beh, senti, è brutto se ti chiedo una seconda porzione. Va benissimo, ma ricordati che c'è anche il dolce. Ho preparato un savarine con limoni e bacche. Suppongo che il savarine sia una cosa del genere, ecco. Wow. Beh, sei veramente pieno di... Craig mi guarda. Sorprese. Robert ci fa l'occhiolino. Puoi scommetterci che lo sono. Puoi venire a cena da me quando vuoi, Craig. Mi piacerebbe una seconda porzione. Anche a me. Dopo aver mangiato più osso buco di quello che avrei dovuto sopportare e dopo essermi garantito il coma da cibo dopo una generosa porzione troppo generosa di savarine, alla fine Craig ed io abbiamo deciso di andarcene. Eh, grazie per essere venuti. Farò un tentativo di essere un pochino più socievole. Beh, dai, saremo sempre felici di venire qui da te se vi vuoi un po' di compagnia. Soprattutto se c'è dell'osso buco coinvolto. E vabbè, la cena l'hanno scroccata, il dolce pure. Quindi ciao a tutti. A questo punto potremmo anche richiamare Craig, eh, voglio dire. Potevo mandargli un messaggino e magari... Lo sai quel che si dice dei terzi appuntamenti? Possono diventare molto seri. Potresti non avere il tempo per un po' di navigare su DadBook? Sei pronto? Uh, aspetta, aspetta, aspetta. Non pensavo che prendesse questa piega. Senti, sarà anche serio, ma proviamoci, dai, vediamo come va. Tanto ci sono sempre i salvataggi. Se mi pento posso tornare indietro. Ci è voluto un po' di tempo per pianificare, ma alla fine io e Craig abbiamo trovato il weekend perfetto per andare a fare un po' di campeggio. È sempre super impegnato con il lavoro e con le bimbe, quindi è bello vedere che potevamo passare un po' di tempo spensierati nella natura. Fin dal nostro primo incontro, dopo tanti anni, ho sempre cercato di andare un pochino a correre con Craig. Alla fine perché correre con lui era un po' l'unico modo per stare insieme il più spesso possibile, ma devo dire che correre così tanto mi ha dato dei benefici alla salute. Sono riuscito a trovare la mia vecchia attrezzatura del college di quando andavamo a fare campeggio. Craig mi ha detto di procurarmi tutti i sacchiappello che servono e anche la tenda, mentre lui si occuperà del cibo, perciò controllo aver preso tutto quello che serve. Ormai Craig arriverà da qualche minuto. Amanda passerà questo fine settimana in un viaggio con la scuola nella capitale. È da quando aveva 14 anni che non passa più di un giorno lontano da casa e lontano da me, però che non si sentirà nervosa quanto lo sono io. Amanda Panda? Amanda è lì in cima, seduta in mezzo ai suoi bagagli, per cercare di chiuderli finalmente. Oh ciao babbo, sei pronta per la tua gita? Sì, una volta che sarò riuscita a chiudere la valigia sarò pronta ad andare. Scusami, ma quante roba ti sei messa nella valigia? Dovete stare via soltanto per due giorni, eh, la capisco Amanda. Ah no, niente, tutto il mio compaggiamento della telecamera, lenti, treppiedi, flash e tutta quella roba là. Ma ce l'aveva il tempo di fare le foto? Troverò il modo? Devo fare delle belle foto per i miei portfogli e cose varie. Vabbè, e che cosa avevi in mente di fotografare? Non lo so, volevo fare una di queste serie che vanno di moda su internet in cui reimmagino le principesse Disney come se fossero dei padri fondatori. Cosa? Sto scherzando? A nessuno piace quella roba lì? Farò delle tratti ai miei amici. Ah, ok, io invece sarò nei boschi, nella natura, tipo Brock, Beck e Monte, no, volevo dire, eh, insomma, una cosa rude, davvero uomo, soltanto io e madre natura e padre Craig, comunque sia. Starei bene da sola? Ma sì, non avevo segnale nei boschi, non potrò chiamarti né mandarti messaggini. Ma sì, dai, riuscirò a sopravvivere per un paio di giorni senza costanti aggiornamenti da parte tua, su su. Beh, mi mancherai. E comunque sia, sappi che gli fa degli spoiler sul programma che guardano sempre insieme sui camion infestati. E quelle scale erano belle? Sempre ripetito un episodio. Amanda finisce di chiudere il suo zaino e lo mette fuori dalla porta della camera dal letto, poi alla fine si gira e mi abbraccia. Rilassati, babbo, sono una bimba grande ormai, so occuparmi di me stessa. Comunque sia, dovevo dividere una stanza con Monica Sanders e con due mamme che ci faranno la chaperon. La cosa peggiore che mi possa succedere è addormentarmi con del gelato in mano. Ah, beh, ok, allora dai, non rubare niente, ok? Ma visto che me l'hai chiesto così tanto gentilmente, ok, non ruberò niente. Perché? Cosa doveva rubare? Alla fine vado fuori e sono pieno di valigie. Craig è arrivato e anche lui ha un po' di attrezzatura. Che montiamo sulla mia auto, modesta ma comunque stilosa. Vede che sto portando da solo il mio occupaggiamento e me lo toglie di mano. Che gentiluomo che sei, mi hai quasi fatto venire le caldane. Non ti preoccupare, questi muscoli sono fatti apposta per prendere cose pesanti e spostarle. Ricordati che questo è un fine settimana di relax, devi prendertela comoda. Sì, mi sa che con questo non si discute. Tutto a posto con Amanda? Sì, sta per andare a Washington DC. E le tue bimbe invece? Sono con Smashley per il fine settimana, perciò sono pronto per il mio campeggio. Forse è la prima volta che lo vediamo senza la bimba, no? La prima volta non sarà, però quasi. Prendo tutte le ultime cose dalla macchina di Craig e partiamo. Oh no, che sai? Che succede? Eh, ho lasciato una cosa attaccata alla corrente, mi sa che dobbiamo tornare a casa mia. Ma che, il frullatore? Hai paura che qualcuno entri e ti fiori delle carote? No, no, è soltanto che io... Senti, rilassati, non succede niente se lasci un frullatore attaccato alla corrente. Dai, non ci pensare più. Craig fa un respirone. Allora, abbiamo qualcosa da ascoltare? Eh, in realtà ho soltanto delle voci che ti guidano mentre fai meditazione, mentre fai calisthenics e tu invece cosa vorresti ascoltare? Eh, no, sto scherzando, ho anche della musica normale, perciò Craig mi passa un cd, anzi tanti cd, prendi quello che vuoi. Trovo un cd con i karaoke e delle canzoni per bambini. Oh, sì, brilla la stellina che ricordi. Continua a scorrere, so via. Alla fine arrivo in fondo, trovo un cd nell'ultimo slot, vuoto, con la scritta di Craig sopra. È un mega mix di DJ Kegstand. L'ho fatto apposta per questo viaggio, penso che ti potrebbe piacere. Alla fine infilo il cd nell'ostero della macchina e mi sento subito trasportato nella nostra vecchia stanza del dormitorio. Alla fine entrambi ci mettiamo a gridare ad altavoce il testo delle canzoni che ci ricordiamo ancora dopo tanti anni. Eh, questa canzone era la preferita di Carl. Che cavolo è Carl? Il terzo compagno di classe. Ah, Carl, il nostro compagno di stanza. Il cane, cioè. Perché dovete sapere che un giorno Craig portò un cagnolino nella stanza sua e di Kiro e hanno fatto finta che fosse il loro terzo compagno di stanza, fingendo che fosse una persona straniera. Eh sì, mi ricordo di quando hai portato quel cane e nessuno è più riuscito a separarvi. Eh sì, siamo stati un intero semestre a inventarci storie sul nostro compagno straniero che faceva dei versi strani perché aveva una brutta tosse che sembrava proprio un latrato canino. E poi sono venuti a ispezionarci la camera. In effetti eravamo un po' sospetti ma nessuno riuscì mai a capire che stavamo facendo. Sì, alla fine il piccolo Carl era semplicemente sotto una coperta ma non venne beccato. Eh, è stato super coraggioso quel piccolo. Eh sì, ne abbiamo fatte di scemenze al college, eh. Mi piacerebbe sapere che fine ha fatto il cane. Comunque sia, il tempo vola. Sentiamo le nostre musiche, con le nostre voci le cantiamo e alla fine siamo circondati dalla bellezza degli alberi e da una vista spettacolare dove tutto è naturale e meraviglioso. Sembra così bello essere tornati qua giù. Molto bello. Parcheggiamo la macchina all'entrata di un sentiero che conosciamo bene e poi prendiamo tutto l'equipaggiamento che abbiamo portato e ce lo mettiamo sulle spalle. Meno male che nelle ultime settimane ho lavorato un bel po' sulla mia salute. Altrimenti con tutta questa roba addosso ci sarei schiattato. Craig guarda costantemente il suo telefono. È tutto a posto? Sì, è che dovevo rispondere a un'ultima email di lavoro. Craig si rimette il telefono in tasca e cominciamo a camminare lungo il nostro sentiero. Non è troppo difficile e sicuramente il mio fiatone sarebbe alle stelle se non mi fosse allenato un pochino. Mi guardo intorno, ci sono alberi ovunque e uccellini che ci inguettano. Tutto a posto, l'addieto sicuro? Eh, qui il telefono non prende più. Sì, perché siamo nel mezzo del nulla, è normale. Capisco che Craig è ansioso, glielo leggo in faccia. E se ci fossero dei problemi? Non ci saranno problemi, andrà tutto bene. Dai amico, chi è che si deve rilassare adesso? Non lo so. Craig? Io? Mi devo rilassare io? Bravo. Continuiamo a camminare lungo il sentiero, ma sembra che Craig sia ancora un po' preoccupato. Craig, per l'amor del cielo, che c'è? Che cosa succede? No, non lo so, è che sono molto nervoso. Il mio istinto paterno mi sta dicendo che potrebbero esserci degli scenari terribili in corso in questo momento. E se alle ragazze capitasse qualcosa, il segnale qui non ce l'abbiamo, non avrei nessun modo di saperlo se qualcosa andasse male. Senti, guarda, te lo dico chiaramente, quella sensazione non te la toglierai mai, non importa quanto diventeranno grandi le tue bimbe. Sarai sempre preoccupato, ma devi ricordarti che saranno sempre in buone mani. Craig non risponde e io cerco di rassicurarlo, dandogli un pugno sulla spalla. Cerca di ricordarti perché siamo venuti qui. I piani erano quelli di distrarsi un po' e di concentrarsi soltanto su noi stessi durante questo viaggio, senza distrazioni esterne, senza telefono, soltanto due padri che cercano di rilassarsi nel bosco giocando a fare i personaggi, i protagonisti di Brockback Mountain. Craig mi guarda negli occhi. Senza distrazioni, senza telefono, soltanto due babbi che si rilassano nei boschi. Ci divertiremo questo fine settimana. Craig e io ci rimettiamo in marcia. Alla fine riusciamo a trovare il sito, per campeggiare. Siamo entrambi felici di vedere che siamo gli unici campeggiatori presenti. Non ci posso credere che tu abbia ancora questa tenda. Eh, l'ho trovata in soffitta e ho già controllato che non ci siano buchi. Ha visto giorni migliori sicuramente, ma credo che sopravviveremo. Butto tutto per terra. Spieghiamo la tenda, la mettiamo dove vogliamo noi e alla fine passo a Craig e tutti i bastoni che servono per montarla. Sappiamo ancora come si fa, vero? Assolutamente sì. No, non è vero, non ce lo ricordiamo per niente. Dopo 20 minuti, passati a sembrare due personaggi di una terribile pubblicità, alla fine in qualche modo riusciamo a creare una cosa che somiglia anche solo vagamente a una tenda. O almeno è così chi disegnerebbe una tenda a una persona che a occhi chiusi la sta disegnando. Beh, non credo che sopravviverebbe una tempesta, ma magari alla nottata sì. Alla fine mettiamo anche due sedie fuori, accendiamo il fuoco e tutto il resto. Dai, guardaci, guarda il nostro regno. È lì che coceremo la nostra carne e che berremo le nostre birre. Al dominio di questa terra. Eh sì, infatti, guarda che belle sedie su cui ci sederemo. E quindi qual è la nostra prossima missione? Beh, adesso che abbiamo preparato il rifugio penso che dobbiamo esplorare un pochettino. Ci sono delle cascate qui vicino, secondo me potremmo andare fin là. Va bene, allora andiamo. Craig e Dio ci avventuriamo nei boschi e ci prendiamo anche il nostro tempo per chiacchierare, ammirare la vita selvaggia. Ecco, se io facessi una cosa del genere col cavolo che ritroverei le tende poi. Craig tira fuori un braccio e mi ferma. Aspetta, è quello che penso che sia? Guardo ciò che mi sta puntando. Eh sì, ha proprio ragione. Quell'albero sembra proprio un fondoschiena. Ehm, vero? Non riesco a non pensare a quanto si è dettagliato. Esaminiamo più a fondo questo albero fondoschiena. È veramente perfetto, ha persino le fossettine di venere sull'attaccatura delle natiche. In fondo, schiena, pensavo che ci saremmo divertiti, ma questo rende tutto molto più divertente. Craig e Ridacchia. Di sicuro non è facile organizzare un viaggio divertente come questo. E vabbè, e dai con le battute da babbo. Su, analizziamo ancora un po' quest'albero. E alla fine ridiamo come matti. Meno male che non ci sono qui le nostre figlie a sgridarci per queste orribili battute che facciamo. Sì, ma ci siamo noi che guardiamo il video, porca miseria. Ci diamo anche il 5. Ecco, bravi, rideteci da soli di queste battute perché davvero. Craig e Dio ci rimettiamo in marcia sul sentiero. È passato un bel po' di tempo ad ultima volta che siamo stati qui e le cose non ci sembrano più così familiari. Però ci sembra di vedere un punto di riferimento lasciato ai vecchi tempi del college e quindi forse ci stiamo avvicinando. Guarda un po' qua. Cominciamo a sentire il rumore dell'acqua che scorre. Siamo arrivati alle cascate ed è tutto circondato da dei bellissimi alberi. E questa cascata è meravigliosa con questa grande pozza d'acqua in cui tutto finisce. Finalmente arriviamo e siamo felici di vedere che c'è ancora la cascata, come ci ricordavamo. È tutto circondato da alberi e c'è una cascata che poi finisce detta detta nel fiume. E non vediamo l'ora di esplorare un po' la zona. Oh, la vecchia cascata. È bellissima. La natura è bellissima. Però non abbiamo proprio idea di quanto possa essere profonda l'acqua qui. Secondo me dobbiamo saltare dentro come facevamo ai tempi. Io preferisco stare all'asciutto, grazie. E andiamo e buttati. Ma non abbiamo neanche il costume. Ma di che stai parlando? Ma che costume? Alla fine Craig inizia a togliersi i vestiti. Possiamo guardarglielo il di dietro oppure non possiamo guardarglielo? Possiamo guardarglielo. Non riesco a fare a meno di dare un'occhiatina proprio a un bel fondo schiena. Craig si gira all'improvviso e vede che lo sto guardando. Eh, io mi alleno anche il fondo schiena, cosa credi? E tutte ste melanzane qui? Mi volto subito arrossito da morire. Allora vieni nell'acqua anche tu oppure no? Non lo so. Beh... lui si sta già dirigendo verso le cascate e non ho nemmeno finito di parlare ancora. Alla fine lui si volta e vede che non sono lì con lui e sembra d'alzare gli occhi al cielo. Su via, ti vergogno a spogliarti davanti a me. Siamo vissuti insieme per anni. Pensi che non abbia visto il tuo di dietro più volte di quelle che aveva voluto. Su da che vuoi che sia. E va bene, va bene. Facciamo pure uno spettacolino allora se ci tieni. Ai tempi quando mi spogliavo è perché qualcuno compiva gli anni. E Craig mi fa anche un fischio. Anzi, non solo gli fa un fischio, gli dà anche una botta sul di dietro. E questa era per te. Alla fine mi trovo tutti i vestiti e li metto piegate e impilati accanto a quelli di Craig. Mi sento un po' troppo nudo però adesso. Craig e io ci arrampichiamo in cima alle cascate assicurandoci di non scivolare sulle rocce bagnate. Lui arriva in cima prima di me e poi mi dà una mano per salire in maniera molto cavaleresca. Guardiamo giù dentro il laghetto. Sembra tutto più piccolo visto da quassù. Craig è sempre stato uno a cui piace usare. Mi ricordo che al college ogni tanto faceva delle cose per cui tuttora mi domando come abbia fatto a sopravvivere. Era sempre in cima a qualcosa di pericoloso, a guardare cose pericolose. Non lo so come facesse a uscirne il leso. Caspita, sembra pericoloso. Craig mi guarda negli occhi. Non ci pensare, salta e basta. Craig si butta a palla di cannone nelle cascate creando uno spruzzo enorme. E io sono preoccupato finché non lo vedo riemergere dall'acqua. Tira fuori la testa e mi guarda. Allora vieni o no? Non ci penso, salto e basta. Come faccio a non pensare? Sono sicuro che non sia fisicamente possibile. Rimango aggrappato ai bordi della roccia. L'acqua sembra così lontana. No, non ci devo pensare, mi devo soltanto. Alla fine vado fino al bordo della roccia, cerco di fare anch'io la palla di cannone come ha fatto lui e alla fine invece atterro di pancia. E mi faccio un male tremendo. Con Craig che mi ride dietro. Beh direi che quel bellissimo tuffo di pancia si merita almeno un 8 su 10. La foro non era corretta ma più o meno il busto si è mantenuto nella posizione giusta. E alla fine metto a spruzzare Craig. Sei sicuro di volermi spruzzare? Lo faccio di nuovo. Non mi dai altra scelta. Craig mi spruzza in faccia un'enorme quantità d'acqua. Hai svegliato la bestia. E mi lancia dell'altra acqua addosso. No, non mi mette all'angolino. Cosa pensi di fare? Non si mettono gli animali selvatici come me all'angolino. E così lo spruzziamo anche noi. Anzi facciamo di meglio. Gli blocchiamo addirittura le mani. Ora devo finire la mossa. Tiro fuori dai miei muscoli tutta la forza da padre che uno possa avere. E tiro Craig fuori dall'acqua. Oh! E poi lo butto giù con una grossa ondata d'acqua. E alla fine Craig rimbalza dentro e fuori dall'acqua. Ora tocca a me. Oh no. Sembra che lui me l'abbia lasciato fare di proposito. Lui fa la stessa cosa soltanto che ha molti più muscoli. Mi prende e mi lancia attraverso l'acqua. Poi emergo dall'acqua devastato però. Pensavi veramente che avessi fatto tutti quei sollevamenti di pesi soltanto per stare bene senza maglietta? Assolutamente no. Con queste braccia posso lanciare chi voglio. Anche te. E anche le melanzane. E alla fine fa vedere i muscoli così in maniera giocosa. Caspita! Craig, per favore. Pietà! Craig ci pensa un po'. Sì, va bene, va bene. Alla fine ci diamo la mano. Alla fine abbiamo fatto pace. Cavolo che rascio d'adenalina che è stato quel salto. Dai da qui non fa più paura, vero? Facciamo a guerra per chi torna in cima più in fretta. Alla fine corriamo come dei pazzi in cima alle rocce bagnate e cerchiamo di buttarci nell'acqua a palla di cannone. Hai fatto un bel lavoro stavolta? Vuoi rifarlo? Ma sì, rifacciamolo da capo. Abbiamo la stessa energia di quando eravamo giovani, ci riarrampichiamo sul cima alle cascate dalle rocce e poi ricaschiamo giù di sotto nell'acqua buttandoci come palle di cannone. Sono abbastanza coraggioso stavolta da provare a fare un giro su me stesso e pensavo di essere molto aggraziato ma alla fine mi schianto di nuovo sulla pancia. Caspita, questo è stato veramente divertente. Un altro? Io vivo per il pericolo, io rido in faccia al pericolo. No, questo non l'ha detto. Comunque sia, stavolta ci metto un pochino più tempo ma alla fine arriviamo in cima e entrambi facciamo del nostro meglio per saltare giù di sotto. Ok, penso che questo sia il mio limite, penso che dobbiamo tornarcene a fare qualcos'altro al nostro rifugio prima che sia troppo buio. Stai scherzando? Non mi sono mai sentito così vivo in vita mia? Ok, sei sicuro? È il momento per me di saltare. Vado di nuovo a tale rocce, faccio un'altra palla di cannone ed è stavolta così divertente che riesco quasi ad azzeccarla. Sai, è un po' freddo però adesso, dai torniamo al campeggio. Va bene, va bene, andiamo al campeggio. È il momento, dai. Ci rimettiamo i vestiti e sono bagnati fradici. Forse fare una gara di spruzzi non è stata una grande idea. Ah no, non fa niente, tanto accenderemo subito il falò e possiamo asciugarli e poi mangiare. Siamo bagnati fradici, mezzi nudi, però spacchettiamo quello che ci serve e Craig tira anche fuori delle bistecche alcune patate. Sei pronto per la nostra cena? Ma certo, sediamoci. Adesso è il momento che il nostro treno si parcheggi nella sezione del relax, perciò cucinerò io. Assolutamente no, cucinare è una delle cose che mi rilassa di più, perciò ci penso io. Craig sta a cucinare? Io mi ricordavo che la sua dieta un tempo consisteva soltanto in mac and cheese al forno a microonde, ma non cotti al forno a microonde, quindi praticamente rimangiava crudi, non lo so. Comunque sia, vabbè, almeno fammi accendere il fuoco. Sì, vabbè, quello puoi farlo, prendo i fiammiferi. Craig si mette a frugare nello zaino. Il fatto è che ci sta mettendo un po' troppo a trovarli, è lì che tira fuori cose e... oh oh, vuoi vedere che non li abbiamo? Ma sapevo di averli presi. Cercare un'altra borsa, ma ancora i fiammiferi non spuntano. Ho una gran fame, adesso sto muorendo di freddo e sono bagnato fradici, dobbiamo veramente fare quel fuoco. Ok, non è la fine del mondo. Caspita, quanto sono stupido, ti giuro, pensavo di averli presi quei fiammiferi. Non ti preoccupare, troveremo un sistema. Possiamo sempre fare un fuoco alla vecchia maniera, siamo intelligenti. Quanto potrà essere difficile? In tv lo fanno sempre tutti. Ci serve del legno. E indico degli alberi. Sì, ma legno secco, mi raccomando. E quello non ci manca. E ci serve anche un modo per fare una scintilla. E troviamo un modo. E poi ci servono anche degli alieni che vengano da lontano e ci portino la scintilla del fuoco, la tecnologia avanzata, a seconda del programma televisivo di cui facciamo parte. Craig e Dio, abbiamo del legno, abbiamo un po' di cose che ci possono servire a bruciare, e alla fine sembra quasi un falò passabile. Vabbè, dai, proviamo a fare sto fuoco, dai. Eh, quella è la parte divertente. Il sole sta cominciando a calare e c'è un venticello freddo che ci sta colpendo. Dobbiamo essere veloci? L'ho già fatta questa cosa in passato e penso di poterlo rifare, ma mi serve un attimo. Comunque sia, posso aiutare? Supporto morale. Solleva il mio spirito e faremo in modo che il fuoco si accenda. Ok, se devo sollevarti il morale e non un'altra cosa, facciamogli un sacco di complimenti. Stai veramente facendo di tutto con quel fuoco. Sei un padre meraviglioso che lavora tanto, sei un grande lavoratore con una forte etica morale, tutti ti adorano. Le tue figlie pensano che tu sia un supereroe e tutti i babbi del vicinato hanno un grande rispetto per te. E hai anche un bel culo. Eh, guarda quante melanzane e quanti cuori. Eh, ti prego, smettila o mi farai piangere. Ok, ok, la smetto. Non voglio certo che tu pianga sul fuoco, visto che altrimenti stiamo ancora più al buio e al freddo. Ce l'hai fatta! Hai acceso il fuoco! Alla fine ha soffiato un po' sulle ceneri e ce l'ha fatta! Ce l'ha fatta il fuoco! Caspita! Sei veramente bravo tu all'aperto! Eh, che bello non moriremo di freddo! Ci sediamo e alla fine ci mettiamo caldi davanti al fuoco a scaldarci. Rilassati dai, adesso ci penso io alla cena. E guardo Craig lì che si affaccenda davanti al fuoco, ancora nudo, e si mette a preparare le bistecche. Dopo tutte queste camminate, tutto questo nuoto e con questa cosa del fuoco acceso finalmente mi posso rilassare con il suono dei grilli che cantano e il profumo della bistecca nell'aria. Ora mi sento molto più tranquillo. Craig riesce a preparare le due bistecche con mani esperte, mentre le padelle si scaldavano sul fuoco. E poi lo vedo anche che è lì che ci mette un po' di timo e un po' di zenzero, giusto per dargli un po' di sapore e anche del burro. Wow! Non sapevo che fosse anche bravo a cucinare. Guarda un po'. La cosa più elegante che gli ho visto fare al college è stato quando ha buttato un pacchettino di spezie dentro un ramen e l'ha mangiato così com'era. Quando è successa sta magia? Un tempo ti mangiavi cereali immersi nella birra invece che nel latte. Son cresciuto, probabilmente. Però penso che sia già pronto, sai? Craig mette le bistecche su dei piatti di carta e poi le mette da parte. Vorrei prenderle una ma Craig mi manda via la mano. Aspetta, lasciami fare anche il resto. Saranno più buone così. Alla fine me ne ritorno a sedere, guardando quelle bistecche da lontano. Che buon odore che hanno. Craig prepara anche un'insalata da accompagnare con del formaggio feta, con delle verdure appena tagliate e poi anche delle belle patate arrostite coperte d'olio e di rosmarino. Quando è tutto pronto ci sediamo lì accanto e cominciamo a darci dentro col cibo. È tutto buono? Sono in paradiso! È proprio quello che volevo sentirti dire. Le cose stanno diventando molto emozionanti tra i nostri due roommate, volevo dire amici di vecchia data. Comunque sia, ti ricordi che una volta abbiamo passato un intero semestre a mangiare soltanto burrito a colazione, pranzo e cena? Sì, è difficile non pensarci. E guardate adesso, hai dei figli, hai un ottimo lavoro e cucini come un mago il cui nemico giurato è un forno a microonde. Sono veramente colpito di come hai rimesso insieme tutta la tua esistenza. Craig ride, ma non sembra divertito in realtà. Sono felice che tu la pensi così. Guardo che egliamente fa l'insalata. Ormai non ce l'ha più quella faccia da bambino con cui l'avevo conosciuto io, ma c'è qualcosa nella sua espressione che me lo fa sembrare ancora più maturo. Un senso di adulto che non aveva quando eravamo al college. Sembra esausto. Vuoi farlo stanchare ancora, Kirio? Tutto bene? Sì. No, no, non è tutto bene. Andiamo. Ti conosco da abbastanza tempo da capirlo quando qualcosa non va. È che sono stanco. Stare qui e a rilassarmi mi fa capire quanto sono sempre esausto. Lavori tanto, Craig, non deve essere facile. Ma devo farlo per le mie ragazze e per la scuola e devo cucinare dei pasti salutari per tutti e devo fare tutto ciò che posso per assicurarmi che stiano al sicuro e siano felici. E quando sono con la mamma devo comunque lavorare lo stesso perché così posso dare dei soldi per la famiglia. E ti fai muscoli perché così puoi ficchiare chi si mette tra la vita e le tue bambine. Sì, quello è il fatto che non voglio ricascare nelle mie vecchie abitudini. Devo essere un buon esempio per le mie bimbe. Tutto ciò che faccio lo faccio per loro, altrimenti non avrebbe senso. Sì, ma ti sta prosciugando questo atteggiamento? Beh, se è quello che ci vuole per crescerle bene, allora ne vale la pena. Non lo so, Craig, ascoltami. Lo so perché stai facendo questi discorsi, ma devi prenderti cura anche di te stesso, sai. Ma lo faccio, mangio bene, faccio esercizio. Lo sai benissimo che non parlo di questo. C'è troppo poco burro su troppo pane. Hai capito cosa voglio dire? Cosa? Ti stai suddividendo in troppi progetti diversi. La tua vita ha bisogno di più equilibrio. È bello che tu sia così interessato a fare il buon padre, però non puoi tascurare i tuoi bisogni soltanto perché sei troppo impegnato a prenderti cura di qualcun altro. Anche tu sei importante, sai. È che io lo so che posso occuparmi della mia famiglia e se faccio qualche passo indietro e guardo le cose in maniera oggettiva, lo so che lo sto facendo per loro, ma non lo so, non riesco a spiegarmi. È che c'è sempre quella voce dietro la mia testa che mi dice che anch'io devo impegnarmi ancora di più e ancora di più. È come se non fosse mai abbastanza. Ogni volta che provo a rilassarmi, quella voce continua a dirmi che non me lo merito. Della verità mi sento anche in colpa per essere qui con te adesso. Eh, ovviamente, figurati se non arrivavano i sensi di colpa genitoriali. Craig, stai facendo del tuo meglio. Stai facendo un ottimo lavoro. Questo è fattuale. Ma anche se non fosse così, te la meriteresti comunque un po' di felicità. Davvero, me la merito? Sì, ovviamente sì. Bro, ma che mi dici? È tutte ste melanzane, mamma mia, fruttivendolo questo uomo. Guardo Craig e penso che sia veramente un ottimo amico e un padre anche migliore. È compassionevole, è un uomo che lavora tanto e è sempre positivo. Incoraggia tutti a diventare la versione migliore di se stessi e fa venire voglia di diventare migliore anche a me. Se soltanto tu potessi vederti nel modo in cui ti vedo io. Craig sorride. Si alza e va verso le sue scorte di cibo. Dai che ti ho portato anche il dolce. Oh, pensi di usare quelle fiamme per farmi un po' di creme brulee? Oh no, non le dire queste cose chino che poi penso al camp buddy con la crema, la panna. Traumi. Cosa? Non ne so niente di cucina, io lasciami perdere. Craig tira fuori i marshmallow. Beh, te lo ricordi come si fanno gli smorse, vero? Oh, come è camp buddy, anche lì facevano gli smorse. Ok, basta camp buddy. No, la domanda più importante è lo sai tu come si fanno gli smorse? Perché mi ricordo che un tempo tu le arrivi completamente questi poveri marshmallow. Ah sì, è vero. Ma perché a me piacciono carbonizzati fuori e morbidi dentro? Ma figuriamoci. Craig mi lancia dei marshmallow e li prendo con la bocca. Che mossa da professionista? No, 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 Kiria, non pensare male, non pensare male, sono marshmallow. Allora, beh, un tempo riuscivamo a farlo anche a distanza più lunga di così, eh, con il vento a sfavore. Dammi una settimana di pratica e vedrai che di nuovo posso tornare in pista a fare le gare di marshmallow. Craig e io ci sediamo davanti al fuoco con Craig che è ancora ignudo e guardiamo le fiamme che lampeggiano. Eh, le stelle sono veramente belle stanotte, eh? Già, mi era mancato tutto questo, Kirio. Eh, anche a me. Rimaniamo lì finché non diventa tardi, ricordando un po' di vecchie storie del college. Guardiamo il fuoco che si spegne e alla fine entriamo dentro la tenda. Una sola tenda, una per tutti e due. E fa freddo di notte, come faranno a stare al caldo questi due? Ah, dentro il sacco a pelo. Speravo che restessero caldi in altri modi. Entriamo nella tenda e prendo il mio sacco a pelo. Aspetta, ma dov'è l'altro sacco a pelo? Dov'è l'altro sacco a pelo? Mi guardo intorno per un secondo. Oh, 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 no. Mi sa che l'ho lasciato a casa l'altro. Vabbè, dai, fa niente, prendilo tu questo. Io mi arrotolerò qui in un angolino al freddo. Ma no, figurati. Craig apre il sacco a pelo e lo stand, così c'è abbastanza spazio per entrambi per starci sopra. Buonanotte, bro. Buonanotte, bro. Mi metto da un lato in modo da dargli soltanto la schiena. Però senza una coperta fa freddo. Eppure, secondo me, c'è una scena uguale uguale a questa in I segreti di Brokeback Monty. Ma ho i brividi e senza rendermene conto mi trovo sempre più vicino a Craig. Però non gli dispiace. Anche lui si gira. Riesco a sentire il suo fiato sul mio collo. È difficile concentrarsi su qualcos'altro adesso. Mi volto per cercare di essere un pochino più a mio agio. Avevo gli occhi e mi trovo la faccia di Craig a due centimetri dalla mia. Per una volta sembra tranquillo. Agli occhi aperti, con le mani piazzate sulla mia vita. Non so chi dei due si si sporge per primo, ma alla fine ci baciamo. Ci guardiamo ancora con il cuore a mille. Finalmente un po' di romanticismo. Craig, ho dei forti sentimenti per te, bro. Non li posso più negare. E quindi al diavolo tutte le donne che ci provano con lui. Io, bro, anch'io. Gli passo le dita tra i capelli e poi su no 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 questi schermate no e poi sul petto craig mi avvicina a sé mi abbraccia mi sento così al sicuro sai parlare dei bei vecchi tempi è divertente ma mi piace farmi di nuovi ricordi con te è quello che dicono c'è il camp buddy o mamma mia questo camp buddy mi ha rovinato il cervello sorrido disegnando la linea dei suoi fianchi con le dita e ci baciamo di nuovo non ho più paura che avevo troppo freddo stanotte meno male finisce qui guarda meno male appuntamento completato beh direi che è andato bene voi che dite direi che è andato molto bene e abbiamo preso s ci siamo anche baciati clicca per continuare ok continuiamo ma pensavo fosse finito l'appuntamento ah ho preso un trofeo per aver fatto tutti gli appuntamenti di craig interessante ma devo farmi tutti i ragazzi padre di questa non lo so adesso lo scopriremo ma così così tranquillo dopo l'appuntamento si passa da manda va bene va bene ci può stare ma vabbè amanda sta tornando e dobbiamo comportarci come se fosse tutto a posto amanda arriva ma mi guarda in modo un po sospetto ciao babbo beh dai l'inizio è buono c'è qualcosa che non va cavolo se ne è già accorta non è niente tesoro sono i federali questa vita da criminale finalmente ti ha trovato ho provato a depistarli ma alla fine il governo statunitense è troppo potente ma se pensano che potranno avermi viva si sbagliano assolutamente sto scherzando però hai ragione effettivamente avrei una piccola sorpresa per te oh sì lo sapevo sei pessimo a mentire amanda tesoro ti dispiacerebbe venire con me in cucina padre lo farò con molta gioia conduco amanda fino alla cucina dove c'è un regalo coperto da un tovagliolo non è nulla di speciale ma volevo che tu avessi una cosina visto che ti sei diplomata la settimana scorsa hai detto di non fare niente di grosso ma oh ma dai alla fine tolgo il fazzoletto dal tavolo e amanda mi guarda così non ci posso credere beh ho pensato che non potrei portarti tante cose nel tuo dormitorio perciò volevo darti un piccolo pezzo di casa da portare con te sono le 19 stagioni di long all paranormal ice road ghost trackers è quello che guardiamo sempre insieme bellissimo e ci sono anche tutte le cose bonus come il commento con dei veri fantasmi e tutto il resto oh babbo lo adoro grazie mi abbraccia forte sono felice che ti piaccia ehi senti ti va di stare un pochettino con me sul retro di casa voglio dire a lanciare qualcosa o roba del genere tipo la palla ma sì andiamo seguo amanda sul giardino sul retro e c'è una festa con tutti i babbi chi se l'aspettava anche tutti i figli spero ma che cosa mi hai detto che non volevi nessun festeggiamento per il tuo diploma come se non fosse il mio lavoro rendere tutto una cosa da festeggiare quando raggiungi un buon risultato perciò questa tua festa di diploma sorpresa babbo ma ci sono tutti beh sì tutti quanti volevano dire a darti il loro sostegno che bello ma quello è un bar del mac and cheese assolutamente sì puoi fare quello che vuoi con tutti i tipi di maccheroni che vuoi e ci sono anche delle torte al gelato e anche delle altre cose da masticare io non so che cosa dire non dire niente dai divertiti con i tuoi amici d'accordo sono molto fiero di te amanda amanda sorride corre con i suoi amici dovrei parlare un po con tutti per assicurarmi che tutti si divertano ma prima mac and cheese ah ma che cosa carina c'è stata anche la festa però prima della festa volevo vedere se riuscivo a fare una cosa molto stupida ovvero penso che si possa trovare il modo di far fuori Kirio durante l'appuntamento con Craig vediamo se riesco a trovare il modo di farlo fuori perciò lanciamoci una volta lanciamoci due volte viviamo per il pericolo stai scherzando non mi sono mai sentito più vivo di adesso va bene ma ne sei sicuro assolutamente sì perciò il nostro Kirio si lancia soltanto che Craig adesso ti dice forse è meglio se andiamo effettivamente l'avevo evitata prima la morte seguendo i consigli Craig ma stavolta non la evitiamo no sono qui per saltare vai senza di me devo fare almeno altri 20 salti ok ci si vede dopo Craig se ne va forse aveva dovuto ascoltarlo dopo tutto vabbè non è niente sono soltanto le cascate finalmente un po di pace e posso lavorare sulla mia forma fisica vado di nuovo sulle rocce caspita che adrenalina arrivo in cima non vedo l'ora di respirare aria e qui vado giù è il momento di correre e di fare il salto più grande che abbia mai fatto finora e mentre arrivo sul bordo riesco a sentire le rocce sotto di me il mio corpo ormai infranto va nell'acqua e vedo una pozza di sangue che mi si forma intorno ben presto rimango da solo con i miei pensieri ah mi sa che ha preso un sasso invece dell'acqua perché perché ho fatto una cosa del genere perché mi sono spinto oltre i miei limiti fisici perché ho lasciato che la adrenalina governasse il mio cervello perché non ho seguito nessuna regola perché non ho ascoltato i consigli Craig vabbè addio mondo crudele le mie possibilità di trovare un compagno erano le stesse che avessi di sopravvivere a questa caduta in queste rocce in queste cascate no vabbè ce l'ho fatta per davvero no no vabbè povero Kirio ha fatto una fine orribile sei caduto dalle cascate e sei morto ma povero Kirio e non va neanche avanti perché è morto che dobbiamo fare vabbè torniamo alla festa in cui è vivo dai torniamo alla festa è meglio per tutti oh Kirio Brian ce l'hai fatta a venire eh sì sì non rinuncere mai a un buon mac and cheese che ne pensi della festa? ah non è male tutto qui non è male sì non è male è una trappola non abboccare non abboccare grazie per il tuo adorabile complimento e poi arriva anche sua figlia ciao padre di Amanda ciao figlia di Brian visto? visto com'è? che bella festa grazie mille per averci invitati tu sei benvenuta mia piccola bambina che sa come fare un complimento Brian e Dio ci guardiamo negli occhi non è mica finita qui la sfida sai sembra che alla fine vi siete ambientati piuttosto bene qui nel vicinato eh già non potrei chiedere di meglio bene sono felice spero che ti vediamo più spesso in chiesa abbiamo un bel programma pianificato per il resto dell'anno sì certo Joseph e magari se non fai niente più tardi potremo anche uscire qualche volta perché io sono sposato con una donna ma ho una gran voglia di fare come in gara ma certo Joseph sarebbe bellissimo vabbè ci si vede dopo eh arriva anche Yugo anche lui con un bel piatto di mac and cheese la proporzione perfetta tra formaggio e maccheroni ottimo lavoro Chirio grazie Yugo sai sono veramente felice di vedere che Amanda frequenterà la scuola dei suoi sogni sono felice che alla fine se la sia cavata con gli esami finali eh anch'io quella borsa di studio ci voleva proprio Amanda è lì che corre e finge di non vedere il suo insegnante Amanda vieni qui a dire ciao al tuo insegnante salve congratulazioni per il tuo diploma lo so che farei grandi cose alla tua scuola di arte sì evviva grazie e Amanda torna un po' più lontana aspetta un attimo mi sono appena resa conto che tu non sei più il mio insegnante perciò non devo più aver paura di parlarti non hai più potere sotto di me eh è vero dai sei un'adulta non posso più metterti in punizione sì adesso romperò tutto quello che voglio e nessuno potrà farci niente Emma sei ancora arrabbiata per quando ti ho dato quella punizione perché avevi rotto il mio mappamondo? nooo avresti dovuto capirlo che quel mappamondo non ci poteva entrare nel cestino del basket sai vabbè se la caverà al college ehi ehi Robert fa dei versi strani sul tavolino degli snack bello già vabbè ci si vede sì ehi ciao Matt fammelo sapere quando Amanda parte per il college ho un sacco di panane alla banana che vorrei regalarle oh grazie penso che lo apprezzerà tantissimo che splendido party in giardino i miei più sinceri ingraziamenti per aver steso l'invito anche a mio figlio e a me la torta al gelato è divina sì grazie amico bella la torta buona grazie per essere venuti qui anche voi oh guarda quanto pare Amanda è con Briar e Hazel e le sue nuove sorellastre vediamo un po' che combinano ok Briar pensa a questa forma Hazel a che cosa sta pensando? a un quadrato Briar? a una stella la prossima volta riusciremo a farla giusta dai è lì che sta cercando di vedere se sono telepatiche Amanda si avvicina a Briar e Hazel però abbassa la voce ascoltate voi potete potete dirmi la verità lo so che mi state nascondendo i vostri poteri psichici ma di me vi potete fidare dai poteste pensare a me come una terza gemella sì Amanda è la terza gemella ma sì babbo una volta che avevo finito l'avvestamento di queste bimbe riusciremo a finire l'una 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 le frasi dell'altra non l'avete finita la frase eh vabbè cos'è che dobbiamo finire? l'una la frase dell'altra visto? sono la terza gemella sì ora vado però è meglio vabbè la festa si avvia verso la sua fine e io mi siedo sul porticato il sole sta cominciando a te a montare e tutti quanti hanno mangiato fino allo sfinimento Amanda viene lì e si siede accanto a me che bella festa babbo che posso dire? ero ispirato allora ehm anch'io ho una cosa per te per me davvero? non è che per una volta vorrei essere sincera con quello che provo ma sai crescere non è facile e pensavo che sarebbe stato molto più difficile ma ci sei stato tu con me babbo sei stato con me in qualunque momento ogni volta che l'ho avuto bisogno ci sono stati momenti della mia vita in cui sei stato il mio unico amico ero molto spaventata l'idea di andare al college e di essere così lontana da te ma alla fine ho capito che tutto ciò che hai fatto l'hai fatto per prepararmi a questo e sono pronta non sarei chi chi sono adesso se non fosse stato per te non piangere non piangere per favore chilo non piangere sei il babbo migliore che potessi volere ti voglio bene e vabbè e ora si piange comunque sia questo era basta vulnerabilità e emozioni per un giorno solo e il regalo amanda mi dà un piccolo pacchettino regalo così tolgo la carta e scopro una foto incorniciata mia di amanda eh siamo noi è inquietante no che tutte le foto dell'album di famiglia raffigurino soltanto me almeno questa ce l'abbiamo dove siamo noi due insieme prima che io parta amanda grazie guardarti crescere è stata la cosa più bella che abbia mai sperimentato in tutta la mia vita sei una persona piena di talento intelligente e sono così felice di scoprire che il futuro che ti attende è radioso farli fuori tutti bimba come sempre amanda e dio ci abbracciamo e questo è soltanto l'inizio babbo ci saranno tanti altri ricordi che ci aspettano ricordi da fare cose da rompere giusto? sì ho preso il finale buono con amanda sì sono un ottimo padre sono un ottimo fidanzato sono un ottimo padre sì ho romperò tante di quelle cose volontariamente e involontariamente e mi sa che tu dovrai pagare per molte di queste sarà un piacere per me amanda fa un saltino via mi sa che qualcuno ti vuole parlare guardo in fondo al cortile c'è craig seduto su una panchina sotto l'albero di ciliezo che mi sorride tipo dichiarazione d'amore come fanno gli studenti giapponesi vabbè vi lascio da soli io e le due ma andiamo a prendere un gelato ti voglio bene babbo amanda corre via dalle sue amichette c'è il finale romantico per caso mi siedo accanto a craig che è l'ultimo che non se ne è ancora andato oh bro però questo mi ricorda le feste che facevamo noi però c'erano meno bambini in giro sì era meglio così non credi alla fine non era il caso di fare cose strane proprio adesso sì infatti io beh sai dopo quel fine settimana insieme in campeggio questa è stata la prima occasione in cui sono riuscito di nuovo a riposarmi un po' magari dovrei anche farmi qualche sonnellino ogni tanto beh se vuoi ti insegno io a farli sonnellini anzi potremmo farli uno insieme ma magari prima potremmo mangiare qualcosa alla fine ridiamo delle nostre battute che non vi ho tradotto per disperazione però caspita quanto mi piacerebbe sdraiarmi in una maca e mangiare delle patatine direttamente dalla mia buzza Craig sono molto felice che tu sei riuscito a ritagliarti del tempo per te stesso anch'io lo stress è una cosa strana sai non ti rendi conto di averla addosso fin quando non ti allontani dalla città e onestamente è un po' distruttivo un po' come quando bevevo tantissimo e mangiavo i burriti direttamente dal pavimento sì forse è meglio se ogni tanto ci allontaniamo dalla città per riprendere fiato che dici Craig tira le gambe sulla panchina e appoggia la testa sulle mie gambe e io gli passo le dita fra i capelli con Amanda le figlie di Craig che li stanno guardando tutte insieme devi trovare il tuo equilibrio e lo stai trovando questo lo ammiro in te eh sto cercando di non sentirmi troppo in colpa quando faccio le cose per me stesso è un processo in corso d'opera e mi ci vorrà del tempo per capire come farlo funzionare però mi potrebbe servire il tuo aiuto bro Craig io sarò il tuo bro fino alla fine dei miei giorni e se essere il tuo bro significa obbligarti a prenderti cua di te stesso sarò molto felice di essere obbligato Craig mi guarda e mi sorride bro vuol dire così tanto per me Craig mi guarda e mi bacia ah sì eh bro davanti alle bambine e sorridiamo tu ed io staremo benissimo oh è andato tutto bene meno male la mia prima run è andata bene oh che carino ho ottenuto il finale buono con Amanda e il finale buono anche con Craig oh e così tutte le le nubili e le divorziate e le vedove di questa città dovevano a rinunciare perché adesso è di Chirio ah 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 ma a parte questo ah siamo arrivati alla fine pensavo durasse di più e pensavo che nella stessa run il nostro Chirio potesse uscire con tutti i padri e sì immagino che avrebbe potuto ma il terzo appuntamento è quello che poi innesca al finale perché dopo il terzo appuntamento sapete cosa si fa no e se non lo sapete non sarò io a dirvelo comunque sia direi che la storia è stata interessante ma ovviamente adesso dobbiamo esplorare anche le altre storie con gli altri personaggi perciò mi raccomando fatemi sapere nei commenti qual è il prossimo personaggio con cui potrei stringere un legame amoroso in realtà ho già qualche idea però ho scelto Craig come primo perché secondo me sarà il mio preferito proverò con Damian magari il prossimo non lo so vediamoci penso dall'altro ci sono ancora tanti minigame e tante cose carine che non abbiamo visto perché sono nelle altre run in quella di Craig però c'era la morte segreta oh era questa la foto ma che cosa bellissima sei il padre migliore di tutti Amanda tesoro che carina e abbiamo sbloccato anche una foto speciale con Craig interessante perché adesso immagino che Kirio e Craig si siano messi insieme quindi abbiamo la foto speciale beh direi che con questo abbiamo finito la run io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino a questo momento e mi raccomando fatemi sapere nei commenti chi di questi pad e single vi intriga di più sono tutti interessanti ma io per ora voto Craig e poi dopo le run degli altri vedremo ciao ciao e per una volta Milo e Triton sono stati risparmiati ciao